Ciao e benvenuto al Cairo, io come sempre sono Manulax e proviamo questo nuovo eroe che hanno aggiunto con una questa bellissima mod a 20 livelli, dobbiamo provarlo immediatamente. Ok, Cairo qua costa 1750, tantissimissimo, mettiamo una scimietta, facete tanto per riuscire a arrivare a riavercelo, grande. Ok, scimietta, asso, asso che spara dritto per dritto, proprio sparando verso i palloncini, quindi bellissimo. Vediamo i primi livelli, spara una freccetta, tutte le torre d'aria ottengono un 20% di velocità d'attacco, i proiettili inseguono e più perforazione, che possono distruggere ogni tipo di palloncino, cancellano tutti gli altri gli attacchi, che significa? Ah ok, quindi spara, fa questo effetto in cui distrugge tutti quanti i palloncini, però gli altri attacchi che potrebbe fare successivamente non fa niente. Vediamo quindi se potenziato un asso, dovrebbe essere sparare un 20% più velocemente, un 20% non lo so dire. Comunque adesso attualmente spara due, l'abilità spara un proiettile ma fa più danno, è anche abbastanza, questi qua sparano abbastanza dritto, mentre il proiettile dell'abilità proprio insegue insegue. Ok, invece di distruggere tutto quanto, probabilmente vede anche i mimetici. Quanto forte è? al 5% più perforazione. Vede il mimetico? No, non vede il mimetico. Ok, tutte le unità prendono un danno e 30% di velocità d'attacco. Tanta roba, probabilmente problemi con il piombo, però con questo dovrebbe farcela. Ok, vediamo se ci torna in tempo. Vai. Bravissimo. Fa più danni ceramica. Ok, questo qua vede i mimetici, finalmente. Possiamo lasciarli passare questo qua a questo punto. Ci ha fatto perdere tante vite, però dovrebbe, al prossimo livello, avrei potuto comprarlo, visto che ho i soldi per comprarlo. Vediamo, ho paura per il mob, perché secondo me non è tantissimo. No, mille per i mimetici, ok. Grande, almeno non perdiamo più. Fantastico. Spara per 3 e l'abilità è ancora più forte e fa ancora più danno. Quindi, comunque, ancora niente piombo. Quindi, se starà così fino alla fine, sicuramente i ddt alla fine non li facciamo fuori. E spara uno solo, perché solitamente ne spara 3. Quindi sostituisce tutto quanto con una precetta. Vorrei che finisce l'abilità per farne che ne sparasse 3. Spara 3? 2? No, questo qua ne spara 3, ok. Anzi, compra. Compra e spara nel 3. E dammi l'abilità che è più forte. Non so se faccia più danni o se arriva ad avere più perforazione. Ok. Il mob? No, ok. Ok, il mob. Bene. A livello 10, tante precette che fanno tanto danno e poca perforazione. Attualmente se la sta camicchiando molto bene. È una mappa molto lunga. Però attiviamo anche questa abilità. Proviamola subito. Uno solo. Uno solo. Chi fa la voce di ozzili? A caso. A caso. Va bene. Livello 11. Più per la perforazione e può fare più danni uno strato extra ai palloncili. qui. Ok. Vediamo quando passa qui al centro. Ha fatto un po' di danni però troppo pochi. Troppo poche freccette. Dovrebbe al minimo fare come la tempesta della spara puntine che proprio faccia tante freccette consecutive. Non una sola. Proviamolo di nuovo. Adesso. è. Vediamo se l'abilità ha senso. O perdiamo adesso. Perdiamo adesso. Velo sì. Proviamola a comprare quindi. Più perforazione e uno strato extra. Vediamo se ce la fa. Più perforazione e tanta roba. Abbiamo distrutto un po' di ceramica. No no no. Questo livello 11 è molto molto potente. Sempre problemissimo contro il piombo. Però finché non ce ne sono tantissimi riusciamo a gestircela. I metri che non è un problema. A livello 12 quindi lancia anche una bomba ogni tanto. La prima abilità quando colpisce esplode. Quindi fa anche esplosioni. Bene. Bene direi bene. A livello 12 ci siamo. Quindi lancia una bomba ogni tanto. Ogni tanto. riesce a farmi. Spara un po' qua un po' qua. Ce ne sono tante solitamente. Allora non so questa bomba quanto. Ferma anche i dirigibili per un attimo. Vediamo il danno che fa. Distruggi ceramica in un colpo. Ah è perché è giusto giusto giusto. Quindi riusciamo a fare fuori anche il... quelli di piombo con le bombe. Quindi abbiamo coperto già tutte e quante le strade. Distruggi tutto quanto. Tantissimo. Ok. E aggiunge un laser. E le abilità sono ancora migliorate. Un laser. Sicuro. Il laser non me lo sarei mai aspettato da un nasso però apprezzato. Apprezziamo tutto. Tutte le unità sparano il 50 per cento e fanno due danni e due più di perforazione. Spara più veloce? No. Mi sembra che spari il 50 per cento più velocemente. Va bene. Le bombe bloccano ancora di più e fanno ancora più danni. Mi preferirei che sparasse più bombe. Le lancia sulla strada? No. Le lancia dove vuole. Dove vuole lo decido e faccio spararli. Secondo me abbiamo abbastanza problemi da round 80 in poi quando diventano in super ceramica a sto punto. Perché i dirigibili riesce a farli fuori senza troppi problemi. In ceramica ce la fa. Possiamo andare anche un po' più veloce perché non vedremo alcun problema. Vediamo a round 70... no niente. Già a round 76 è andato e a round 68 troppo facilissimo. E è un po' troppo forte questo eroe. Ok abbiamo vinto però. Vediamo di provarlo un altro po'. No. Neanche il problema con il super ceramica. A livello 17 tutte le armi sono state aumentate e un altro laser che sia uguale. Cambialo. No. Doppio. Avrei preferito di un altro colore. Magari un viola o qualcosa di diverso piuttosto che rosso. Tanto per verificare che siano due. È un peleto troppo forte. Che ne dici? Le bombe diventano nuke e fanno esplodere qualunque cosa. Il distruttore di mondi e tutte le unità aeree diventano molto più forti. Allora. Spara tre laser. Si spara tre laser. Non credo abbiamo problemi. Neanche con i DDT è andata. Come può essere un eroe da solo fare tutto questo? Un po'. Guarda anche i DDT è nessun problema. Vediamo a round 98. Da veramente non si muovono da qui. Bad almeno arrivami un po'. Quanti danni fa con il laser? Adesso guardiamo. Grazie per l'asso giusto. Beh fa se vuole migliaia di danni a secondo. Se vuole. La ghicchia leggermente poco. Aspetta vediamo un asso se adesso magari spara un po' più velocemente. L'asso adesso lo vedo sparare più velocemente. Adesso sì. Adesso sì. In seguito da solo. Grazie. E l'asso super potente. Vediamo un'altra spezza volante che solitamente sparava veloce. Non so se sparava così. Decisamente mi sembra che spari più missili. Quello ok. Vediamo se riesco a differenziare qua il pilota di elicotteri. Non sono totalmente sicuro. Però forse sì. Spara leggermente. Mi sembra leggermente più veloce. Ecco. Quello ok. E ma... Visto che abbiamo anche i soldi. Tanto per capire. Una fortezza volante. Mi sembra che si muovono più velocemente le bombe. Quello sì. Quello sì. Non vedevi il mimetico to? Però potevi fargli dare il mimetico a tutte quante le torri? No. Mi avresti risolto una cosa. Molto molto forte. Ferma anche i dirigibili. Poi cosa vuoi dalla mia vita? A un 119. Allora. Solo perché non riesce a fermare i bad. Ok. Ma... Vai a 100 e ci vediamo al 140 che mi deve passare. Poi ho anche due abilità ancora mai utilizzate. I DDT passati? Cosa? Cosa mi stai dicendo? Impossibile. Ah ok. Adesso l'abilità almeno la spara un po' di più. Ha tutti i DDT bloccati. Ok. Infatti mi sembrava strano che passassero i DDT. Erano tanti. Ok. Però se avesse tipo un cerchio piccolo per continuare a mandare le bombe qua li fermerebbe tutti quanti. È una buona mappa anche comunque per questo asso che fa così. Tanti DDT. Sto giro sono tanti. Sto giro sono tanti. Il problema è che se io attivo l'abilità numero uno mi ha sempre detto che ferma tutte quante... Ferma tutti quanti gli altri proiettili e tiene solo uno. Ma quanti danni mi fai? Utilizziamo uno che fa veramente pochi danni. L'abilità, gli ezili, il suono è proprio stranissimo. Poi provare l'uno. Devi essere più forte di quello singolo. Ah sì perché esplodono. Mamma mia. Ha recuperato tutto quanto. E ci sono questi qua che continuano a girare ed esplodere. È bellissimo. Beh sono finiti. Sono finiti. Resisti. 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 Fantastico. Round 138. Un milione di DDT. Vediamo questo. Allora. Dubito che fa. È riuscito a fermarlo. È riuscito a fermarlo. No l'ultimo eh. No l'ultimo. Fermo a fermo. No abbiamo perso. Però abbiamo ancora due abilità da utilizzare. Vai. E una. Ah di nuovo l'abilità. torna abbastanza in fretta. Abbastanza in fretta. È riuscito a fermare i DDT. Fantastico direi. Proviamolo a vedere in modalità Samionaya. Per vedere la sua vera potenza. Però è livello 20. Contro. Facciamo un 160. Un bad rinforzato. Uno solo. Dammi le abilità. E. Devi andare. Adosso. Quando c'è sopra faccio one and grow. Vediamo. Vediamo. Danni. Ci prova. Beh fa migliaia di danni. Potrebbe farcela anche abbattere un bad del 160. Vediamo adesso se ci ritorna sopra. Come fa a tornare prima l'abilità 2 che l'abilità 1. E... 160 lo distrugge appena prima che scappi. No non ce la fa. E ha 350.000 di vita. È abbastanza tanto. Comunque interessante. Fatto bene. Mi piace l'interazione con le altre scimmie volanti. È un eroe interessante. Ok. Gli manca totalmente la skin. Però... Un eroe aereo che non si vedeva da un po'. Un eroe tipo volante così che si muove su tutta quanta la mappa. Ok. E per Cairo è tutto. Ditemi cosa ne pensate voi di questo eroe nei commenti se lo volete vedere. Anche voi aggiuntano il gioco. Grazie a tutti della visione. E ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao. A tutti.